Le medicine, come si chiede? Lei ovviamente non li sa i nomi delle medicine, non si ricorda. Io non mi ricordo, mancavo uno dei miei miei dei. Lo so, storia Grazia, ma non è stata né colpa mia né colpa del signor Gustavo. C'è stato questo inconveniente e ci siamo ritrovati in questa situazione. Eh lo so, se me li può dare perché stiamo proprio di fronte a una farmacia, le recuperiamo. Con la L finale, Metforal, perfetto. Sotalex me la ricordavo, sì, 200. Sobrepin supposte, cioè solo supposte questo? Sì, allora mi dica in bustine perché, però me lo dica storia Grazia quando ci so cose del genere, che per me capisce che è meglio. Trovate tutte le fortuna. Queste parole vengo io adesso. Che sono queste? C'è, le medicine, vorrei che le medicine. Dove stavano? E ce la vedevi dentro? No, non ce l'avevo io, dove stavano? Stavo qua, stavano qua. Che è qua? Sulla macchina? Dove? Allora, quella verde, sappiamo. L'acqua, mi sembra l'acqua. Signor Gustavo, lei però, allora, innanzitutto mi faccia controllare il foglio. No, io uso questo, sembra l'acqua. Sì, ecco l'acqua. Ti perdiamo anche questo. Per la luce. Aspetta, faccio l'aiuto io. Faccio l'esame. No, no, però, Gustavo, perché questa cosa? È un brodo. Che significa brodo? È l'acqua della sua borraccia dell'anteguerra. Non è che è un brodo, non è un drink. È calda. Ma sì, me lo dice dopo, non è che sputa. Non è che è bollente, è bollente sputi. Se è calda, lei inghiotti e prendi la medicina, voglio dire. Vabbia un po' d'acqua prima. Sì, la vado a prendere. Leggermente frizzante.